Il Costa Rica è un bellissimo paese situato in Centro America. È pieno di fauna selvatica unica e formazioni vulcaniche, e la sua gente è tra le più felici della Terra. È un luogo noto per i suoi numerosi siti archeologici unici, come l'antica città di Guayabo, abitata più di 3.000 anni fa. La città era sede di una cultura, oggi perduta, con uno sviluppo avanzato nell'ingegneria civile, nell'architettura e nell'urbanistica. Per quanto misterioso possa sembrare, fino ad oggi nessuno sa chi fosse questa cultura, da dove provenisse e dove sia scomparsa. A differenza di altre città e culture precolombiane documentate dai primi esploratori, questa cultura è scomparsa un secolo prima dell'arrivo degli esploratori spagnoli, e nessuno sa perché. L'unico motivo per cui sappiamo qualcosa su di loro è a causa degli acquedotti altamente sofisticati, dei serbatoi di stoccaggio dell'acqua, dei tumuli di pietra, dei sentieri acciottolati e di varie altre strutture rimaste nell'area. Gli acquedotti e le cisterne di stoccaggio dell'acqua erano così ben costruiti che funzionano ancora oggi, migliaia di anni dopo la loro creazione. Eppure, per quanto interessante e misteriosa possa essere questa cultura perduta, i suoi risultati impallidiscono rispetto a quelli di un'altra civiltà antica perduta, quella che ha lasciato dietro di sé centinaia di enormi sfere di pietra megalitiche scoperte in varie località del paese. Gli archeologi non sono sicuri dello scopo originale dietro queste sfere di pietra e del motivo per cui ne sono state create così tante. Mentre alcuni hanno suggerito che le sfere di pietra siano state realizzate dalla cultura precolombiana d'Ikis che fiorì tra l'VIII e il XV secolo, altri negano queste teorie, poiché le sfere sono troppo sofisticate nel design, suggerendo un'origine molto più antica. Diversi ricercatori alternativi ritengono che le sfere di pietra megalitiche siano il prodotto di una civiltà tecnologicamente avanzata ormai perduta o addirittura di antichi visitatori extraterrestri. Tutto ebbe inizio nel 1940, quando un contingente di lavoratori che disboscavano una fitta macchia di foresta nella regione del delta del Dikis in Costa Rica si imbatte in qualcosa di affascinante. Durante la pulizia del terreno forestale per una nuova piantagione della United Fruit Company, i lavoratori si sono imbattuti in alcune sfere di pietra molto insolite. Le sfere di pietra giacevano parzialmente sepolte nel suolo della foresta e quando i lavoratori hanno iniziato a ripulire l'erba fitta e gli arbusti intorno a esse, sono stati sorpresi di scoprire che c'era un numero significativo di questi manufatti unici e fuori posto. Immediatamente, queste sfere megalitiche divennero il prezioso tesoro di molte delle classi superiori del Costa Rica. Sono state collocate di fronte agli edifici governativi e diversi dirigenti della United Fruit li hanno persino collocati nelle loro case. Il venerato antropologo John Hoops ha stimato che almeno 300 di queste sfere di pietra siano state scoperte in tutto il Costa Rica. Mentre le sfere variano di dimensioni, la più grande ha un diametro di circa 2 metri e mezzo e pesa 16 tonnellate, mentre la sfera più piccola conosciuta non è più grande di un pallone da basket. Sfortunatamente, molte delle sfere di pietra si sono rotte durante la rimozione e il trasporto. Alcune sono state addirittura fatte saltare in aria con la dinamite, in un momento in cui il loro valore archeologico non era riconosciuto. Le impressionanti sfere sono, nella maggior parte dei casi, di forma quasi perfettamente sferica, il che rende improbabile che siano formazioni naturali. Considerando che erano fatte di grano di orite, che è un minerale considerevolmente duro, i ricercatori e gli archeologi hanno difficoltà a spiegare come sfere così grandi siano state scolpite nella roccia dura senza alcuna tecnologia avanzata. Gli esperti hanno notato che le sfere di pietra monolitiche hanno una complessità sferica fino al 96% in alcuni casi. Come gli antichi fossero in grado di scolpire rocce perfettamente sferiche di questa grandezza con strumenti primitivi ha lasciato perplessi gli archeologi sin dal momento della loro scoperta? Molti scienziati concordano su una linea temporale approssimativa dal 200 a.C. all'800 d.C. per quanto riguarda la datazione delle sfere di pietra. Supponiamo che gli archeologi convenzionali abbiano ragione nel datare queste pietre affermando che sono state realizzate in questo periodo. Come hanno fatto questi antichi artigiani a scolpire queste sfere megalitiche senza l'uso di strumenti metallici o tecniche avanzate? La maggior parte dei ricercatori concorderebbe sul fatto che la datazione presentata è puramente speculativa poiché si basa sull'ultimo utilizzo delle sfere non sul momento in cui sono state scolpite per la prima volta. Alcuni suggeriscono che le sfere potrebbero essere migliaia di anni più vecchie di quanto credano gli storici convenzionali. Gli archeologi e gli esperti sono spesso senza parole quando gli viene chiesto lo scopo di queste sfere di pietra. Alcuni suggeriscono che fossero semplicemente simboli di status o prestigio tra le culture antiche spiegando che solo i membri potenti della classe dirigente avrebbero avuto una tale sfera e questo avrebbe rappresentato il loro status politico o sociale. Ma potrebbe essere questo un altro esempio di archeologi che guardano alla storia attraverso una lente moderna. Il fatto che membri della United Fruit Company le usassero come status symbol significa che i loro ex artigiani le usavano allo stesso modo? C'è di più nella storia di queste sfere insolite. Molte altre teorie sono emerse nel corso degli anni. Alcuni suggeriscono che si tratti di reliquie legate ad altri siti megalitici in tutto il mondo come Stonehenge e l'Isola di Pasqua e che tutti questi siti enormi e inspiegabili fossero il prodotto di una civiltà globale ormai perduta. Alcuni suggeriscono che le sfere fossero strumenti di aiuto alla navigazione usati negli allineamenti astronomici. Anticamente potrebbero essere state collocate in particolari allineamenti che rifletterebbero varie costellazioni nel cielo notturno, una sorta di mappa stellare. Le sfere potrebbero anche essere state allineate con il movimento del Sole e di vari altri corpi celesti. Questo potrebbe essere stato usato nelle pratiche rituali per indicare varie parti dell'anno legate a cicli particolari. Sfortunatamente, molte delle sfere di pietra sono state spostate dalle loro posizioni originali. Ciò significa che i ricercatori non possono dire con certezza quante delle sfere di pietra una volta erano allineate con i corpi celesti e cosa stavano cercando di rappresentare. Tuttavia, alcune misurazioni sono state effettuate più di 50 anni fa, quando le sfere furono scoperte per la prima volta. Ciò ha permesso ai ricercatori di confermare che molte delle sfere di pietra erano allineate in varie sequenze. A volte andavano in linea retta, altre erano disposte in quadrati, triangoli e persino parallelogrammi. È stato persino scoperto che quattro sfere si allineano perfettamente con il nord magnetico, indicando una comprensione avanzata delle forze naturali della Terra. Sebbene la conoscenza del magnetismo risalga ben prima del 600 a.C., è stato solo nel XX secolo che gli scienziati hanno iniziato a comprenderlo appieno e a sviluppare tecnologie basate su questa conoscenza. Allora, com'è possibile che i creatori di queste sfere avessero una conoscenza così avanzata migliaia di anni prima che la civiltà moderna la scoprisse? Un altro aspetto insolito della loro scoperta è che alcune delle sfere di pietra sono state trovate su tumuli artificiali. Nel nostro video sugli antichi giganti, dove mostriamo tutti i tipi di scoperte di scheletri giganti, la maggior parte degli scheletri sono stati trovati in antichi tumuli funerari nel Nord e Sud America. Significa questo che le enormi sfere di pietra erano in qualche modo collegate alle antiche razze di giganti menzionate da ogni cultura del mondo? Naturalmente, se chiedi agli archeologi moderni, lo negheranno fermamente. Infatti, la maggior parte delle sfere di pietra in Costa Rica risalgono al 200 a.C. e all'800 d.C., perché è quando gli insediamenti intorno al fiume Terrabac crebbero di dimensioni e attraversarono un periodo di sviluppo culturale. Per questo associano le sfere megalitiche alla cultura di Icchis che prosperò nel rio grande de Terraba. Questa cultura aveva complessi sistemi sociali e politici e nella zona in cui vivevano abbiamo trovato anche grandi edifici costruiti con massi, strade lastricate e diversi tumuli murati. Qui sono state scoperte anche intricate ceramiche e oggetti d'oro e tutti risalgono alla cultura di Icchis. Tuttavia, le sfere di pietra megalitiche sono troppo sofisticate e troppo massicce per essere state costruite da questa cultura. Vari ricercatori alternativi hanno sostenuto che le sfere di pietra appartengano in realtà a un periodo molto più antico e forse a una civiltà ormai perduta. È stato suggerito che la cultura di Icchis potrebbe effettivamente avere ereditato molte delle più grandi sfere di pietra megalitiche della zona e che le venerassero per le loro dimensioni. Diversi capi locali furono persino sepolti con alcune delle sfere di pietra molto più piccole dopo la loro morte. Dopo la conquista spagnola molte delle culture di Icchis scomparvero o furono uccise da malattie e guerre lasciandoci pochissime leggende sull'origine delle sfere. Dopo questa invasione spagnola le sfere furono lasciate nelle foreste e nelle giungle e furono dimenticate fino a quando non furono riscoperte negli anni 40. Ma è possibile che le sfere di pietra siano state lasciate da un'avanzata civiltà perduta scomparsa dai documenti storici? Ebbene alcuni ricercatori direbbero di sì dal momento che il Costa Rica non è l'unico posto in cui troviamo queste enormi sfere. Infatti gigantesche sfere di pietra megalitiche sono state trovate anche in Bolivia e perfino in Nuova Zelanda. E la cosa più scioccante è successa nel 2004 quando gli archeologi hanno trovato una collezione di sfere di pietra simili dall'altra parte del pianeta in Bosnia-Herzegovina. Qui le stesse identiche grandi sfere di pietra sono state scoperte sparse lungo il letto di un ruscello e tra il fitto sottobosco di una foresta vicino alla città di Bania-Luca. Infatti una delle sfere rinvenute parzialmente sporgenti dal terreno nella località di Zavidovici era di dimensioni sorprendenti. Era larga 3 metri e pesava circa 40 tonnellate rendendola la più grande sfera di pietra mai registrata sulla Terra. Inizialmente i ricercatori sono stati in grado di affermare che la grande sfera ha un alto contenuto di ferro il che potrebbe indicare un uso funzionale del megalite ma quale fosse questo uso rimane un mistero. Il dottor Osmanaghi noto anche come l'Indiana Jones Bosniaco è un autore ricercatore noto soprattutto per il suo lavoro nel tentativo di scavare la piramide bosniaca vicino alla città di Visoko. Abbiamo un intero video sulla piramide bosniaca e se vuoi saperne di più puoi guardarlo facendo click nell'angolo in alto a destra o sul link nel commento in basso. Naturalmente come per la piramide di Gunung Padang in Indonesia anche il governo bosniaco ha annullato tutti gli scavi nel sito e la piramide bosniaca rimane sepolta e nascosta al mondo. Tuttavia prima che gli scavi venissero annullati il dottor Osmanaghi registrò che erano state trovate sfere di pietra in più di 20 diverse aree della Bosnia tutte realizzate con alcuni dei materiali più duri sulla terra come cranito e pietra vulcanica sebbene alcune erano realizzate con materiali più morbidi come l'arenaria. c'erano più di 80 sfere di pietra sparse per la Bosnia ma una leggenda locale sosteneva che l'oro fosse nascosto al centro di ogni sfera pertanto molte delle sfere di pietra in Bosnia furono distrutte da coloro che cercavano il prezioso metallo il dottor Osmanaghi è convinto che le sfere siano state realizzate in modo simile a quelle trovate in Costa Rica Mentre gli archeologi moderni non hanno ancora una risposta definitiva sul fatto che le sfere bosniache siano o meno create dall'uomo Osmanaghi è fermamente convinto che siano la prova che esisteva una connessione tra tutti questi siti megalitici sparsi in tutto il mondo il dottor Osmanaghi ha svolto ricerche sulle sfere bosniache così come su quelle del Costa Rica per più di 15 anni inoltre ha visitato sfere di pietra di uno stile simile in luoghi come il Messico occidentale l'isola di Pasqua la Tunisia e le isole Canarie ha anche scritto di sfere di pietra scoperte in Siberia Croazia e Albania quindi tutte queste scoperte potrebbero essere la prova di una civiltà avanzata dimenticata nel passato possiamo continuare a guardare questi vari segni di costruttori megalitici e la tecnologia avanzata in tutto il mondo come una semplice coincidenza o gli archeologi dovrebbero iniziare a considerare l'idea che tutti questi artefatti fuori dal comune siano stati lasciati da una specie di razza avanzata perché troviamo sfere megalitiche di forma simile in quasi tutti i continenti del mondo agli archeologi manca qualcosa le sfere di pietra potrebbero indicare una connessione tra tutti questi luoghi i libri di storia convenzionali negano tutte queste teorie e suggeriscono l'idea che le pietre fossero formazioni naturali o che fossero state realizzate con mezzi primitivi uno scienziato ha suggerito che le sfere di grano di orite avrebbero potuto essere riscaldate con carboni ardenti e poi spente con acqua ciò avrebbe reso la pietra fragile e più facile da scolpire usando nient'altro che una roccia più piccola sebbene questa fosse una teoria popolare tra un certo numero di archeologi tradizionali tutto è cambiato quando un gruppo di scienziati che lavoravano sulle sfere trovate in Bosnia ha fatto alcune scoperte sorprendenti hanno effettuato analisi chimiche sulle sfere di pietra trovate nella città bosnia di Zavidovici e le hanno confrontate con pietre più piccole della stessa zona quello che hanno trovato è stato sorprendente i risultati hanno rivelato che le sfere di pietra sono state formate artificialmente attraverso un processo di fusione della roccia allo stato liquido e poi versando la roccia fusa in uno stampo artificiale durante lo stato liquido gli antichi alchimisti avrebbero mescolato vari additivi per garantire il raggiungimento delle migliori proprietà del materiale la pietra liquida sarebbe poi stata versata in un grande stampo e una volta asciutta si sarebbero ottenute sfere quasi perfette lavorare con questo tipo di tecniche avanzate ha indotto molti archeologi scienziati e storici a riconsiderare il tipo di culture che un tempo abitavano le Americhe e l'Europa dove hanno imparato queste abilità avanzate in chimica si chiedevano secondo le leggende locali di questa parte del Costa Rica le sfere di pietra furono usate come palle di cannone durante una grande antica guerra tra gli dei la leggenda locale dice che il dio del tuono le usò come armi per scacciare il dio del vento e degli uragani è quindi possibile che questi cosiddetti dei fossero una specie di esseri extraterrestri che si facevano guerra l'uno contro l'altro? potrebbe questo spiegare perché le sfere di pietra si trovano in luoghi separati da migliaia di chilometri diversi ricercatori hanno suggerito che la storia di due divinità che si fanno la guerra l'una contro l'altra potrebbe aver avuto origine da una storia vera in cui gli alieni usavano una forma sconosciuta di macchinari o una sorta di fonte di energia generata con l'aiuto degli esseri vicini per forgiare queste sfere perfette forse questi esseri hanno saputo posizionare queste pietre in modo tale da iniziare a sfruttare l'energia della terra nello stesso modo in cui abbiamo parlato nel nostro video delle piramidi di Giza come generatori di energia se non l'hai visto ti lasciamo un link nei commenti quindi cosa ne pensi delle sfere di pietra trovate in Costa Rica e in altri luoghi del mondo come la Bosnia e la Nuova Zelanda? sono opera di esseri primitivi che usavano acqua e rocce per martellare le pietre in una forma quasi perfetta o c'è un'altra risposta? possibile che dietro la costruzione delle grandi sfere monolitiche di pietra ci sia una civiltà avanzata? una razza con una vasta conoscenza della chimica che potrebbe facilmente sciogliere la pietra dura in uno stato liquido usando una qualche forma di macchinario o qualche tipo di dispositivo di energia di frequenza? queste sfere di pietra erano usate per tracciare le stelle nel cielo notturno o erano usate come un'antica mappa stellare per i visitatori di un altro pianeta come suggeriscono le leggende locali? dici cosa ne pensi nei commenti qui sotto ancora una volta grazie per aver guardato lascia un mi piace a questo video e assicurati di iscriverti al nostro canale se non l'hai già fatto puoi anche premere il pulsante di notifica in modo da non perdere il nostro prossimo video grazie per aver guardato